a 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 che non c'è altro con un barco di container, non c'è un carro arriva alla mano e ora non c'è l'ultima, e l'ultima dice che non possiamo andare, se non c'è l'ultima, non c'è l'ultima, non c'è l'ultima, non c'è l'ultima, non c'è l'ultima. Il problema è che non c'è un rischio, quando si tratta il vento, non c'è l'ultima, non c'è l'ultima, ma non c'è l'ultima, così è l'ultima, però non c'è l'ultima, se c'è un rischio con un rischio, mentre non c'è un Waf, il bene il venne tranquillo qui non, qui non c'è l'ultima, si tratta di i barcati per la parte, comunque c'è l'ultima, il rischio è faxato, ma l'ultima il rischio è che più grande. e ora ci dice, mentre ne c'è l'ultima, non c'è l'ultima, se c'è l'ultima, se c'è l'ultima qui ci sentiamo la barca, e è un riavito, la barcadeira per dentro del barco di auto e la barcadeira per dentro del barco di auto e la barcadeira per dentro del garage e per dentro del barco di auto individualmente. Quindi la comunità è stata di imprensare che il barco non è sufficientemente buono per ricevere il barco, per ricevere il barco tranquillamente. Il barco è dentro del barco e dentro del barco. E questa è una situazione che è un barco per la barcadeira, questa è la nostra intenzione, ma non c'è la libertà, non c'è la possibilità per ricevere il barco di crucero, se necessario, un altro barco. Però basta che possiamo ricevere il barco, la maggiori del barco di crucero è dentro del barco, e tutti i barcati che ci sono dentro del barco, ci sono dentro del barco. e ci sono attraverso il barco e ci sono in più suficienti terreno per creare un barco più buono, come se non c'è un barco di più, non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più il terreno per creare. e anche se ci sono che i turisti non sono molto felice, ora mettiamo barra e mettiamo container, barco container l'auto c'è qualcosa di altro l'auto non arriva, non arriva e non arriva, non arriva perché non c'è nulla e tutto ci sono qualcosa di altro e se non c'è qui l'auto c'è qualcosa di barra l'auto non è l'auto c'è qualcosa di più l'auto c'è qualcosa di più ma è un'auto più raffinato ma è un'auto c'è qualcosa di più sono un'auto c'è un'auto ma è un'auto c'è un'auto e non è un'auto ma è un'auto ora siamo a poco a poco ci sono qui è il nostro plan di settembre o'occhio ora è un'auto in questo caso ci sono in questo caso con il nostro popolo è un start, per lo che noi stiamo chiedendo, con una parte della infrastruttura, il governo chiede a noi di mettere un énfasis sulla verde del UAAF, e lo nostri spiegherà il budget, e lo nostri spiegherà un cammino nuovo, e anche un walkway, un'ergeno bocana più vicino del UAAF, lo che noi sentiamo fuori del popolo con un'ergeno di investimento per la mano, è un'ergeno che non vuole più per la construzione, non è possibile, un'ergeno che è importante, per la construzione, il nostro popolo è un po' di riva, ma anche per la mano, tranquillamente, cerca della mano, si, è parte per fuoco, ma per fare sempre un'ergeno che è qui, per il motivo che non si complica le regole, in inglese ISPS, e questo è quello che, quando la gente arriva cerca del barco. Già domingo, oggi è 5 di mei, l'elezione presidenziale, nel Santo Domingo, il tour dominicano, che ha il diritto di voto per votare fuori di Arruba. Signor Winston Tavares, Presidente della Fondazione Dominicano, in Arruba ti explica, con il tour dominicano, lo può fare uso di non derecho di voto. Convocare a tutta la comunità dominicana, che questo domingo, il 15 di mei, l'elezione presidenziale, tanto come, qui i dominici, possono eserciare il diritto al voto, tanto per i presidenziali, e il diputato di Ultramar. La persona va a conseguir di valore di valore, va a essere da 6 di mattina, a 6 di mattina, tutto il cittadano dominicano, che ha il diritto di valore, può eserciare il diritto al voto, da 6 di mattina, a 6 di mattina. Exhortiamo alla comunità per che possano fare liberamente il uso del diritto al voto, che è molto importante che tutti i dominicano residenziali in la isla possano eserciare il diritto al voto, a pesar di che non sono inscritti nel padrone electoral, che ci sono 1.849 inscritti in persona, però la Junta Central Electoral Dominicana hizo una resoluzione il domingo passato, e approbaron che tutte le persone che per un motivo che non hanno registrato la sua città, possono andare liberamente a la Junta Central Electoral qui va a essere il centro di votazione in Playa Pavao, di 6 di mattina a 6 di mattina con la sua identità e possono eserciare il diritto. Il domingo 15 di maggio, di 6 di mattina a 6 di mattina a 6 di mattina. Va a avere 3 tipi, però in questa occasione, i dominicano residenti in la isla di Arruga possono votare solamente per 2... Tiene 2 opzioni, van a conseguir 2 boletti electorali, i dominicano si hanno più opzioni, però qui in la isla solamente van a tener 2 opzioni. E quali sono queste 2 opzioni? Presidencia e diputato di Ultramar. Planilla A e planilla D. Todo il dominicano che può essere indocumentato in la isla, anche hanno il diritto al voto, perché le votazioni non si vedono se è legale o è legale. Todo il dominicano che è in la isla, sia che sia indocumentato o non, ha il diritto al voto. È molto importante remarcare che se non è inscrito nel padrone può essere il diritto al voto. Per più informazioni è buono che puoi chiamare al 582-5890 che è il numero di la fondazione e è molto importante che puoi essere il diritto al voto questo domingo 15 di maggio. 1849 però aveva una risoluzione di ultima ora che il dominicano a pesar di che non si non ha registrato la sua cittola però si è in il padrone dominicano è qualcosa che la logistica è della in Aruba può avere 7.000 dominicano quindi può avere magari di edad non abbiamo come fondazione non ho capito però si aparentemente può essere che vanno a votare 3.000 persone o un estimato così ci sono in 10 giorni viaggare un attacco a una un supermercato un fuori si si lo si Varios patrulli accorrono in busca, però senza risultato. Attrago Tim, Tim, ofta na altura di attrago Kitambe. Attrago Tim, Tim, ofta na altura di attrago Kitambe. Tornando che non l'abbava per la busca di un'auto di parezza. Arresta variei veicodos attrago in a casa e, dopo av falso pesconto, Turendi abandona il sito e non detiene ninguna persona in a casa. Oltre caminyle, il homem di Van Browne lo ha detente. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti